In questo video presentiamo il prodotto tra matrici, che è un prodotto righe per colonne. Il risultato di un prodotto tra matrici è una matrice detta matrice prodotto. Consideriamo questo primo esempio e osserviamo che la prima matrice ha due righe e due colonne, quindi è di tipo 2,2. La seconda matrice invece ha tre righe e due colonne, quindi tre righe e due colonne. Osserviamo che il numero delle colonne della prima matrice è diverso dal numero delle righe della seconda matrice. Quindi, poiché sappiamo che il prodotto tra matrici è possibile solo, quindi due matrici sono moltiplicabili, solo se questi due numeri sono uguali, cioè se il numero delle colonne della prima matrice è uguale al numero delle righe della seconda matrice, avendo concluso che questi due numeri sono diversi, concludiamo che questo primo prodotto non è definito, queste due matrici non sono moltiplicabili, quindi prodotto non definito, non esiste quindi la matrice prodotto di queste due matrici. Passiamo al secondo esempio. Osserviamo quindi come sono fatte queste matrici. La prima matrice ha due righe e tre colonne, mentre la seconda matrice ha tre righe e due colonne. In questo caso, osserviamo che il numero delle colonne della prima matrice è uguale al numero delle righe della seconda matrice, quindi queste due matrici sono moltiplicabili. È possibile quindi per noi scrivere la matrice prodotto. Gli elementi della matrice prodotto, li otterrò moltiplicando in tutti i modi possibili le righe della prima matrice per le colonne della seconda matrice, così come adesso sto facendo vedere righe per colonne. Che tipo di matrice otteniamo? Otteniamo una matrice, in questo caso, che avrà il numero delle righe della prima matrice, quindi due, quindi avrà due righe, la matrice prodotto, e il numero delle colonne della seconda matrice, quindi due colonne. Otterremo quindi una matrice quadrata di ordine 2. Scriviamo adesso gli elementi di questa matrice. Allora, il primo elemento di posto 1,1 lo otterrò facendo 2 per 5 più meno 1 per meno 1 più 4 per 6. E qui otteniamo quindi l'elemento di posto 1,1. Lo sto sommato, scrivo adesso gli altri tre elementi della matrice prodotto. Abbiamo quindi scritto la matrice prodotto. Facendo i calcoli otteniamo quindi la matrice quadrata di ordine 2, 35, 16, 8, 0. Osserviamo che se le matrici prodotto di questo secondo esempio fossero scambiate di posto, potremmo lo stesso fare il prodotto, eseguire il prodotto, righe per colonne, ma otterremmo una matrice quadrata di ordine 3. Passiamo infine all'ultimo esempio di prodotto. Osserviamo che queste matrici sono entrambe quadrate di ordine 2, quindi sono sicuramente moltiplicabili tra loro, perché il numero delle colonne della prima matrice è sicuramente uguale al numero delle righe della seconda matrice. E otteniamo anche qui una matrice quadrata di ordine 2, cioè moltiplicando tra loro matrici quadrate di ordine 2, si ottengono sicuramente ancora matrici quadrate di ordine 2. Troviamo quindi la matrice prodotto, seguendo sempre la solita regola di prodotto righe per colonne. Poi abbiamo ottenuto quindi la matrice prodotto e dopo aver svolto i calcoli otteniamo la matrice quadrata di elementi tutti nulli. Osserviamo che abbiamo ottenuto una matrice quadrata nulla, con tutti elementi nulli, anche se eravamo partiti da due matrici che non erano nulle, nessuna delle due era nulla. Quindi vediamo che questo tipo di algebra delle matrici non è la classica algebra che siamo abituati degli insiemi numerici, in quanto abbiamo trovato che moltiplicando due matrici non nulla otteniamo una matrice nulla. Quindi concludiamo dicendo che abbiamo presentato il prodotto tra matrici e righe per colonne e per questo prodotto non vale la proprietà commutativa e non vale la legge di annullamento del prodotto.